Bene, buon pomeriggio a tutti, sono Ettore Ruggero, a nome di Artes Academy do il benvenuto e qui con noi la relatrice di oggi Lucia Cataldo che avremo modo di presentare. Il tema di oggi è vivere e far vivere esperienze nei musei. Abbiamo scelto questo tema perché come sapete molti dei nostri webinar del 2018 sono stati dedicati al turismo esperienziale e alla valorizzazione del patrimonio culturale poiché il 2018 è l'anno europeo dedicato proprio al tema in tutta Europa e chi più di noi italiani devono poter mettere a tema la valorizzazione del patrimonio culturale ovviamente in rapporto anche alla promozione del turismo. Vi ricordo che abbiamo fatto anche un bel webinar con Europark sottolineando il ruolo del patrimonio naturalistico nell'ambito del patrimonio culturale e poi anche il tema delle rievocazioni storiche come occasione di coinvolgimento attivo di visitatori e turisti. Oggi quindi il webinar mette al centro il museo come luogo di cultura ed educazione e ovviamente parleremo di nuove modalità che devono potersi attivare con i visitatori e quindi con un pubblico ci auguriamo sempre più folto di turisti non solo italiani ma anche stranieri senza comunque togliere l'importanza che i musei possono avere proprio nell'educazione e nella valorizzazione del patrimonio culturale in rapporto ai cittadini e agli abitanti del territorio. Bene è qui con noi Lucia Cataldo che do il benvenuto che tutti quanti vedete e spero che tutti quanti ci ascoltino correttamente laddove avete i problemi potete utilizzare la chat per interagire con il sottoscritto con la speranza di potervi risolvere i aiutarvi a risolvere i problemi ovviamente dovete avere un pc con con l'audio e poi chi volesse intervenire come già ho accennato precedentemente con la chat ha la possibilità di farlo cliccando sull'iconcina della mano che è posta alla sinistra del pannello di controllo quindi può prenotare il suo intervento e chiederemo e poi non appena apriamo nella nella l'ultima parte del webinar il lo spazio alle domande ai brevi interventi ci sarà appunto la possibilità di interagire con la nostra relatrice. Allora do la parola a Lucia per una breve presentazione per entrare nel vivo del del tema di oggi grazie buongiorno a tutti spero che l'audio faccia il suo dovere perfetto allora il tema di oggi è un tema particolare che probabilmente qualche qualche anno fa sarebbe stato un tema un po da fantascienza ma adesso il patrimonio nei musei è visto finalmente come oggetto della comunità come luogo condiviso in questo dobbiamo essere grati all'europa e anche alle convenzioni mondiali come per esempio la convenzione di faro proprio perché tramite queste convenzioni tramite istituzioni mondiali quali l'international council of museums con l'aumentare dei luoghi patrimonio dell'umanità dell'unesco abbiamo finalmente raggiunto una nuova sensibilità per cui anche il museo ha dovuto adeguarsi a questa nuova sensibilità e alle richieste del pubblico io adesso proverò a farvi vedere anche dallo schermo se la connessione è lenta poi toglierò la mia anzi lo faccio ora e vi faccio vedere direttamente lo schermo visualizzando visualizzando la presentazione di alcune diapositive appunto dandovi la possibilità di capire qual è l'aggancio del patrimonio culturale con quello che è il mondo particolare del turismo con quelli che adesso vengono chiamati appunto i percorsi esperienziali ma qual è il rischio il rischio è che si parli in maniera banalizzata di patrimonio in maniera banalizzata di apertura dei luoghi di cultura e del patrimonio e che quindi l'aggancio col turismo avvenga a livelli piuttosto bassi mentre tutto quello che è successo ci permette di agganciare patrimonio culturale e turismo a livelli più alti di questo significato per cui adesso ecco il museo in quest'ultimo decennio è diventato sempre più partecipativo questa è una cosa importante c'è una curatrice americana che nina simon e che ha scritto un libro un libro d'altronde online un contenuto online disponibile e che si chiama di participatory museum in cui ha rivoluzionato il concetto di museo e in museo in cui c'è la partecipazione dal basso delle persone e degli utenti andrò abbastanza veloce su questo su questo argomento però cercando di spiegare bene cosa significa partecipazione dal basso oltre a questo in italia stiamo appunto sempre più vedendo come io vi ho messo una citazione di pier luigi sacco del 2010 perché fu proprio questo economista a lanciare sulle pagine del sole 24 ore e perciò vi ho messo l'anno quindi 2010 sono passati otto anni e questo slogan che con la cultura si mangia quindi che bisognava mettere in moto quei meccanismi di sviluppo locale che permettono la valorizzazione economica della cultura ma nel frattempo anche il patrimonio deve essere il motore di questi meccanismi di sviluppo locale cioè lo sviluppo locale non avviene senza la promozione del patrimonio e in seguito è il patrimonio che dà un feedback sullo sviluppo locale e come si fa coinvolgendo il pubblico il coinvolgimento secondo quello che dice nina simon non è un coinvolgimento unilaterale cioè il museo che va a incontrare il pubblico in questo caso anche il pubblico dei turisti pubblico che vuole la fruizione ma lo accoglie e il pubblico riesce ad interagire con il patrimonio culturale ecco quello che ho detto e in pratica è questo circolo virtuoso del patrimonio e patrimonio sta entrando sempre più nella consapevolezza delle persone e una cosa importante questo riguarda per lo sviluppo locale perché questo è anche uno delle cose che interessano di più al webinar è che il valore identitario del patrimonio cioè quanto il patrimonio viene percepito in senso locale dalle persone che sono sul territorio sviluppa questo senso di appartenenza ai luoghi alle storie e le memorie se il patrimonio è ben radicato come valore identitario sul territorio allora tutto ciò che può venire fuori anche a livello turistico o del turismo culturale sicuramente viene fuori di un ottimo livello e non di un livello basso potremmo dire commerciale quindi il museo e le istituzioni ma anche gli utenti del settore quindi in questo caso i partecipanti al webinar devono tenere presente questo e devono lavorare su questo sentiero perché appunto invece sono tanti altri modi di lavorare con il patrimonio se si lavora e se si riflette sul significato identitario del patrimonio le cose di cui vi farò vedere degli esempi vengono fuori nella maniera giusta quindi è anche vero qui sulla diapositiva vedete segnato patrimonio materiale e immateriale perché grazie all'international council of museums e grazie a tante altre cose che sono successe di cui però l'ICOM è sempre stato capofila il patrimonio immateriale adesso ha lo stesso valore e lo stesso significato del patrimonio materiale e questo è un anche questa è una svolta soprattutto per l'Italia in cui il patrimonio immateriale quindi il paesaggio e rientra anche a far parte del patrimonio materiale perché vi faccio un semplice esempio i nostri artisti l'Italia del rinascimento ha guardato molto al paesaggio adesso non è il caso di fare una lezione di storia dell'arte ma siamo una nazione in cui il paesaggio come patrimonio immateriale entra sempre in quello che è il patrimonio artistico e in questo senso si 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 sviluppano le industrie culturali creative e le nuove professionalità e sono appunto una messa valore una messa a reddito di valorizzazione dell'eredità culturale come vedete non ho usato la parola patrimonio ma ho usato la parola eredità questo perché perché il patrimonio è un concetto da acquisire e da tramandare noi conserviamo il patrimonio i restauratori i musei conservano il patrimonio proprio in virtù del fatto che deve essere tramandato alle nuove generazioni o in questo caso io generalmente faccio rimetto rimetto un attimo il video rimetto un attimo il video vorrei farvi un esempio che è un esempio molto calzante e vi da la chiave per capire cosa intendo io per patrimonio da tramandare faccio sempre io l'esempio di una collana di famiglia posseduta appunto da una certa famiglia in cui la madre mostra la collana alla figlia le racconta la storia di questa collana poi la ripone in cassaforte poi ai 18 anni della figlia tirano di nuovo fuori la collana le rinfresca la memoria sulla sulla storia della collana gliela fa indossare per i 18 anni poi la ritira fuori magari alla laurea della della ragazza lo storytelling viene nuovamente messo in atto e questa cosa preziosa preziosa sia come valore monetario che come valore proprio affettivo viene nuovamente rinnovata così nella sua essenza e poi finita la generazione magari morta la mamma la figlia avrà cura dell'oggetto e ne propagerà la memoria mentre una mamma che mette sotto chiave una collana non la fa mai vedere non ne fa non parla ai figli del valore di questa collana beh alla sua scomparsa probabilmente i figli trovando la collana in cassaforte andranno semplicemente da un gioielliere a chiedere quanto vale come valore monetario e magari decideranno anche di venderla scusate se è stato un esempio così banale ma penso che sia l'unico per far capire che significa quando si dà valore ad un'eredità culturale e quando invece una cosa rimane sempre chiusa non guardata non fruita anche magari con qualche chiamiamolo così pericolo che riguarda la fruizione come quando nei musei a volte c'è il pienone ci sono le file aumenta la temperatura nelle sale perché magari appunto e quindi con qualche problema di conservazione perché magari c'è un evento e ci sono molte persone ecco conservare ma mostrare al fine di tramandare questo è questa è la dinamica attuale del patrimonio le persone quindi che hanno in custodia il patrimonio non sono solo i musei sono anche le persone del territorio al punto che la convenzione di faro quindi voi potete segnarvela poi vederla una volta che finisce il webinar parla di comunità di eredità comunità di eredità sono delle comunità che ereditano lo stesso patrimonio culturale come come vedete è un'addizione molto generica ma che indica un senso di appartenenza il che significa che a una comunità di eredità non appartengono solo le persone nate e diciamo che sono state sul territorio da generazioni ma anche persone che si sono aggiunte nello stesso territorio e che ne recepiscono l'eredità quindi entrano a far parte della comunità di eredità cambio un attimo il file di riferimento nel mentre sistemi nuovo file volevo chiedere ai partecipanti ormai sono molti collegati di fare questo breve sondaggio per capire anche se hanno mai realizzato eventi vale a dire non visite guidate tradizionali musei ma diciamo momenti interessanti di incontro con l'eredità di cui il museo custode e il luogo se volete divertirvi a rispondere una delle seguenti domande in modo tale che abbiamo anche un'idea condividiamo un pochino quello che è il l'esperienza di ciascuno di di voi che qui collegato e che ringrazio per la numerosa partecipazione a questo incontro ancora qualche secondo vediamo un pochino il risultato chiudo il sondaggio ancora dieci secondi perché purtroppo abbiamo i nostri tempi contingentati e se tutti hanno votato condividiamo insieme questi risultati il 45 per cento quindi sostanzialmente una metà ha già realizzato degli eventi in quest'ottica invece il 45 no ma appunto probabilmente partecipa al webinar proprio perché è interessato a farlo e a capire le modalità più efficaci per poterli realizzare e un 10 per cento di no a te Lucia per continuare grazie sì eccomi magari ecco tolgo la mia figura così è più semplice quindi puoi proseguire anche col video così è più facile seguirti poi se ci sono problemi ti ti avviso grazie sì allora il museo oggi quindi si trova di fronte non so se mi vedete perché ho dovuto sovrapporre ho dovuto sovrapporre la scritta alla mia immagine il museo contemporaneo sì 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 ma io sono visibile anche perché io sul mio computer perfetto vai benissimo allora il museo di oggi si trova davanti appunto a una molteplicità di prospettive proprio perché visto e considerato quello che abbiamo detto in questo momento devono eh trasmettere eh i significati in moltissimi modi sia per i pubblici eh che chiameremo locali che sono quelli che poi secondo la convenzione di faro diventano le comunità di eredità e sia per gli altri pubblici gli altri pubblici sono anche moltissimi e quindi la sfida del museo è quella di avere moltissimi certi modi di comunicare e non solo i modi eh tradizionali che possono essere una didascalia che possono essere anche un file eh multimediale eh qualcosa che eh appunto viene inserita nel museo solo perché bisogna averla e tante volte i musei si dotano di apparati multimediali eh soltanto perché sanno che bisogna farlo ma non perché ne abbia una consapevolezza ehm una consapevolezza eh piena eh delle strategie che possono essere messe in atto tramite la multimedialità il pubblico va coinvolto in tante maniere dalle maniere più tradizionali appunto alle maniere pratiche al fare e eh a tale proposito uno studioso americano eh di nome colb con scritto con il k e colb non sto a parlarvene perché è tutto argomento proprio di un di un'intera lezione ma ha cercato di riunire il tutti i tipi di pubblici in quattro eh modalità di approccio quindi è stato eh ha cercato di suddividere psicologicamente i nostri modi di fare i nostri modi di approcciarci alla a quello che vediamo o a quello che facciamo eh in in un museo appunto con degli stili di apprendimento proprio per facilitare i musei a trovare alcune strade comunicative che possano eh intercettare tutti i tipi di mh fruitori e un'immagine e due immagini molto brevi per esempio di quello che può essere il coinvolgimento attraverso il teatro o il coinvolgimento attraverso eh uno storytelling io sono molto affezionata a questa immagine eh della della compagnia le nuvole eh che eh lavora fra gli altri anche al museo nazionale di Capondimonte proprio perché c'è c'è pulcinella che spolverando i quadri in realtà racconta l'intera storia ai ai bambini qui passo a un qualcosa che mi è molto caro per una mia affinità eh spirituale proprio con eh di di linee guida con la persona che ha eh inventato quest'altro modo di collegare il museo con il pubblico e di far sì che il museo veramente diventi partecipato eh perché il libro di Nina Simon che eh parla di eh che parla di museo partecipato e ehm è stato subito eh messo in pratica se vogliamo dire così in tutto quello che è il mondo americano ma il mondo italiano che partiva da un'idea di museo più simile alla seconda delle due mamme della collana di cui vi raccontavo prima che alla prima cioè quella che condivide il il suo piccolo tesoro ehm con con la famiglia in più eventi ecco ehm eh questa persona eh in Italia sta un po' rivoluzionando quella che è la Sicilia eh la dottoressa Elisa Bonaccini che sta lavorando in modo che vari musei e qui c'è il il un post del museo archeologico Antolino Salinas di Palermo che ha cominciato a eh eh condividere i suoi oggetti sebbene per esempio alcune sale ehm prima gran parte poi alcune sale del museo fossero chiuse ha cominciato a condividerle ehm dotandole di significati tirando fuori da questi oggetti eh dei significati che potevano essere condivisi e poi in seguito partecipati cioè che il pubblico poteva usare per eh 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 propagare il patrimonio o per parlare di se stessi anche questa è la pagina mh Facebook del museo Salinas e c'è un post che riguarda un piccolo frammento eh che di di ceramica a vernice nera quindi ceramica importata greca che eh in realtà racconta tante storie e tramite il quale frammento in una giornata appunto eh il sei luglio la giornata mondiale del bacio si è avuto un un'esplosione di eh commenti condivisioni che non solo condividevano il frammento ma anche l'intera vita del museo eh provocando poi questo eh rapporto più stretto fra museo e pubblico che è quello del quale stiamo parlando io è chiaro che mi mantengo su linee piuttosto generali in cui mh proprio perché è un webinar che eh vuole abbracciare una serie di argomenti eh sto eh oscillando da quelli che sono i pubblici turistici a quella che è la partecipazione dei pubblici locali ma in realtà le cose eh possono essere eh approfondite separatamente in questo caso io le tengo unite proprio perché sto cercando di eh di focalizzare il fatto che quando una comunità di eredità un eh l'insieme delle persone che eh vivono eh sul territorio riesce a ad avere un approccio con il museo eh un approccio partecipativo si innesca sia dal punto di vista economico la filiera del di un turismo culturale che mette in moto l'industria culturale creativa ma eh si mette in moto anche una ehm partecipazione del della comunità locale a un nuovo modo di fare turismo di cui la comunità locale diventa uno strumento esattamente come è uno strumento eh l'intero eh l'intero museo o lo staff eh del museo eh sempre la condivisione del 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 post e l'evento che ehm è stato tirato fuori appunto da ehm Luisa Bonacini anche su Twitter con l'hashtag Salinas Love Week un altro eh di questi eh post eh in cui diciamo ecco che cosa significa il 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 pubblico il pubblico colto il pubblico che lavora nell'ambito che riesce a eh traslitterare quello che è il restauro di una statua in una fotografia che ci sembra molto contemporanea proprio nella così nel nel pollice di questa statua di Zeus che sembra parlare con il linguaggio eh dei nostri giorni. in questo modo ehm riusciamo a colmare proprio quel vuoto fra l'idea della conservazione e l'idea della fruizione addirittura aggiungendo qui un significato di fruizione che sta in una gestualità molto contemporanea cioè quella del like e siamo ricordate sempre il paragone del della della mamma della collana e della 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 ragazza e vi accorgete che in questo caso qui c'è la conservazione quindi il tenere comunque comunque tenerci comunque all'oggetto e la sua fruizione in maniera eh sciolta e nuova e voglio eh pubblicare i risultati di questa non si può definire una campagna social quella che ha mhm ideato e attuato Elisa Bonacini non è una campagna è un vero e proprio una macchina sistemica di comunicazione reinventando tutta la comunicazione di un museo che nel frattempo appunto aveva dei problemi legati anche alla chiusura quindi tirar fuori la collana saperla tirar fuori eh avere quella creatività ehm sulla quale dopo tornerò alla fine del del delle slide avere quella creatività giusta i risultati eh parlano eh da sole quindi tutto ciò è possibile ed è possibile ed è possibile anche senza mettere in 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 moto enormi macchine economiche e la consapevolezza del patrimonio da parte della comunità locale in questo caso una comunità scientifica ehm che è quella ehm diciamo messa in campo dalla dottoressa Bonacini che però ha coinvolto le scuole e ha coinvolto le persone del territorio per spostare diciamo i significati di questo museo e volevo cogliere l'occasione visto che hai già affrontato una serie di temi interessanti di ricordare che eh fra qualche minuto non appena completa la sua la sua comunicazione ehm eh Lucia la sua comunicazione sarà possibile avviare le domande quindi anche su temi specifici ehm è possibile fare delle domande o intervenire cliccando eh cliccando sull'icona della mano in modo tale che poi in ordine di priorità eh chiamerò eh aprendo l'audio a a chi intende intervenire grazie eh qui invece vi vi mostro un lavoro che si sta facendo ehm a San Marino eh ha avuto un un premio e quindi un finanziamento eh e e un uno stralcio della tesi di di Biennio in museologia in museologia di Yvette Brodazza appunto una mia eh studentessa che mh eh ha preso la la laurea specialistica con me che ha lavorato sulla memoria del territorio e ehm e fra eh quelle che erano le cose che il che questo ehm che questo lavoro voleva ottenere c'era il fatto che le persone che la che vivono sul territorio che si riattivasse come è scritto qui eh l'empatia fra eh gli abitanti e il territorio per riscoprire il valore delle diversità e i vari valori del proprio eh territorio e la consapevolezza di come il territorio è arrivato eh a quello che è eh lo stato attuale. e anche come dice lei di far emergere nuovi punti di vista sul territorio immaginate che cosa significhi questo in un posto che noi diciamo nell'immaginario collettivo pensiamo a un posto molto piccolo come San Marino eh in realtà sì è piccolo ma i valori del territorio o i punti di vista le letture dello stesso territorio possono essere mh molto ampliate a seconda degli stimoli e a seconda delle ottiche eh di chi lavora sul patrimonio eh qui parliamo anche di paesaggio culturale appunto che è costituito dalla dall'unione di paesaggio materiale e paesaggio immateriale quest'immagine invece è un altro dei modi di poter eh lavorare appunto eh nell'ambito sia turistico e sia delle comunità del territorio sempre lo ripeto ogni tanto per raggiungere quella consapevolezza che poi serve a essere motore anche di industria eh turistica ed è ehm con un piccolo eh strumento che serve per mettere a fuoco alcuni eh punti del paesaggio eh spesso dalla finestra di un museo ed è il wallscape il wallscape che è stato ideato da dal da due colleghi Antonella Antonella Michaletti e Roberto Vecchiamerelli docenti all'Accademia di Urbino che hanno lavorato con dei percorsi esperienziali sul territorio eh che partono proprio da letture precise del territorio e delle sue memorie. eh ecco questo per esempio è il risultato di un wallscape ma è un wallscape in questo caso eh dedicato eh dedicato ai bambini e in cui insieme con quelli che possono essere le foto d'archivio o i disegni vengono anche ehm raccolte diciamo e collezionate quelle che sono altre evidenze del territorio quindi eh riuscire a recuperare l'amore per il territorio partendo dal passato ma arrivando anche al presente eh ai sassi eh o o alle erbe o alla texture delle pavimentazioni ehm stradali. questo è una è una modalità eh in questo caso è una modalità multimediale piuttosto semplice e anche piuttosto datata se proprio ehm vogliamo dirlo datata perché ha tanti anni ma è sempre fresca e attuale nelle emozioni esperienziali che dà. questa è una carrozza eh un modello di carrozza semovente eh che eh al museo di Palazzo Bonaccorsi a Macerata eh in cui inserendo una cartolina del paesaggio del luogo in cui si vuole andare e e mettendosi all'interno di questa carrozza che eh viene mossa da determinati meccanismi si mettono in moto filmati e audiovisivi e si è in carrozza, si ascoltano delle voci del secolo scorso che raccontano il territorio mentre sul dai finestrini eh laterali eh anteriori e posteriori si vede scorre il paesaggio come se effettivamente si stesse facendo un viaggio in carrozza. questo perché il museo ha una cospicua collezione di carrozze anche qui il museo la sua parte interna ha cercato di fare qualcosa per il fuori per l'outside cioè di riuscire a legare reperti del museo e il il paesaggio fuori. ehm è chiaro che questa cosa può essere potenziata però la eh è uno di questi input che servono al al museo per agganciarsi col territorio e con le sue risorse anche economiche. dunque ecco adesso si è ehm eh si è interrotto il 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 pdf c'era ancora qualche eh qualche immagine che evidentemente non non è stata caricata. avrei voluto eh caricare alcune immagini che sono della eh Martin Property Society che parla della eh creatività eh nel mondo eh la creatività che ha come parametri eh la eh tecnologia quindi l'uso di di tecnologia e ma anche l'inclusione e la tolleranza. questi erano dei parametri eh come vedete eh piuttosto nuovi per quelle che sono in generale i nostri modi di eh di valutare. quindi in questa classifica della eh della creatività basata su questi parametri che appunto sono sia la sia la tolleranza che eh scusatemi perché ce l'ho qui spero di potervelo eh mostrare ma penso che che non eh non non ci riesco adesso a. Nel mentre io proverei a fare un altro e ultimo sondaggio salvo poi chiedere chi volesse fare domande di potersi iscrivere perché abbiamo i tempi contingentati in modo tale che se poi riesci a trovare questa slide la condividiamo insieme. vediamo questo sondaggio in cui eh chiediamo quali sono le difficoltà secondo voi per avviare e potenziare eventi educativi e sociali nei musei locali. Una scarsa sensibilità del museo, il difficile coinvolgimento del territorio in termini di eh stakeholder pubblici e privati, problemi logistici e operativi dei musei che molto spesso non hanno personale e quindi hanno problematiche legate all'apertura in momenti e situazioni particolari della settimana. Potete anche scegliere più di una risposta come già vedo state facendo competenze insufficienti per la realizzazione degli eventi nel senso che localmente non c'è nessuno che è in grado di poter realizzare queste cose ovvero se non avete idea nel senso che non conoscete molto la situazione locale. eh qualche altro momento secondo per poter rispondere a questo sondaggio poi magari sarà utile da parte di Lucia fare qualche considerazione sui risultati eh che potrebbero emergere da questo sondaggio. ancora qualche secondo in modo tale che se poi hai la slide pronta riparti da l'ultima considerazione molto interessante sulla sulla creatività e sulla modalità di eh realizzazione di eventi creativi nei nostri musei. allora chiudiamo il sondaggio e condividiamo insieme i risultati vedete c'è eh una preponderanza del difficile coinvolgimento del territorio in termini di pubblico privato c'è anche eh l'aspetto della scarsa sensibilità di responsabili ovvero di problemi logistici operativi. mh un altro dato interessante che chiama alla nostra sensibilità e al nostro voler attivarci in questo senso delle competenze insufficienti per la realizzazione degli eventi. eh a te Lucia se vuoi commentare questi dati o comunque riprendere da dove eravamo rimasti. Grazie. Allora ehm adesso ehm adesso eh sì vi vi condivido un attimo lo schermo poi commento i risultati perché ehm poi ho problemi ho un po' di problemi perché non so come mai questa immagine non riuscivo a mostrarvela. Ecco eh spero che si veda. Molto bene si vede bene. Allora questo perché volevo appunto farvi vedere proprio il eh il sito ehm perché è il sito della Martin Prosperity ecco qui vedete sono i tre indici sono tecnologia eh talento e tolleranza. Queste erano le tre T eh rispetto alle quali loro hanno misurato di Global Creativity Index. e eh nella verra mh appunto ecco ve lo faccio vedere eh quindi scusate se non faccio vedere eh tutto il resto comunque come vedete ai primi posti poi eh sulla slide non si vede c'erano all'Australia al primo posto poi l'America il Nord America e tante altre nazioni ma a noi interessa che siamo al ventinesimo posto. dietro a tutte quelle che sono le nazioni europee eh e anche dietro la Spagna siccome abbiamo sempre a volte questo questo strano guardare eh cosa fa la Spagna. La Spagna poi dal dal punto di vista turistico ci ha molto di molto eh superati. quindi mi interessava far vedere solo questa cosa perché andando in termini di queste tre cose che appunto sono ehm la la tolleranza non solo verso gli immigrati. Martin eh Prosperity parla di eh sia o immigrati sia minoranze etniche o anche minoranze di genere e quindi la la T della tolleranza la T del talento eh della dell'appunto di quella che è la classe creativa e ehm il quanto eh abbiamo noi di investimenti pro capite per la tecnologia. quella era la la terza la terza la terza T ecco queste erano appunto le cose che volevo che volevo farvi vedere e in più eh vi faccio vedere anche quest'ultima slide dopodiché eh concludo. ehm il il museo viene incoraggiato da un una nuova idea di progettazione eh museale che è un'idea eh americana ma che eh riprende ciò che è stato già detto e fatto nella nella didattica museale italiana eh degli anni sessanta e degli anni settanta. cioè che bisogna ehm ehm eh definire delle strategie eh prototiparle prototiparle significa appunto poter fare dei test e e poi mettere in atto le cose eh noi abbiamo invece e spesso nei musei eh tutto quello che riguarda la comunicazione che viene fatto quasi chiavi in mano da delle da delle società e eh non si pensa a testare eh le cose eh le cose questa era un po' la conclusione di quello che volevo dirvi lì dove la prototipazione e eh il test è una delle cose che si possono fare con appunto con coinvolgendo le comunità e quindi eh lavorando in una maniera più ehm collaborativa e non calata dall'alto come in generale il museo il museo fa. in questa eh in questa eh idea della eh della comunicazione calata dall'alto rispetto alla partecipazione per la creazione dei significati secondo me sta sta il segreto per poter parlare di musei e turismo eh nel e comunità locali nel futuro. grazie scusate se ho eh sforato di cinque minuti. No no perfetto va 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 molto bene io mentre ehm chiedo se ci sono degli interventi delle domande rispetto ai molteplici spunti e anche esempi che eh Lucia ci ha offerto oggi riprendo la condivisione dei risultati dell'ultimo sondaggio in modo tale che chiederei anche eh a Lucia che ha non solo come avete ha avuto avuto modo di conoscere una una notevole esperienza didattica anche proprio esperienza e familiarità con le diverse realtà museali italiane ecco dal suo punto di vista come commenta questi i risultati del sondaggio tenendo conto che una di voi ci ha indicato anche eh come ulteriore item da valutare quello dei problemi di budget. quindi lascio un attimo la parola a Lucia e poi chiederò a Simona D'Arcangeli che si è prenotata di poter intervenire chiedo ad altri, abbiamo ancora 10 minuti quindi se c'è qualcuno che ha intenzione di fare domande o di intervenire brevemente sui temi che sono stati trattati se può segnalare con la manina a sinistra e il pannello di controllo la volontà di intervenire così attiviamo il dibattito a te Lucia Sì, i dati sono piuttosto pesanti però mi sembra, ci ho tenuto a portarvi almeno due di quella case history quindi sia del WorldScape che del lavoro fatto dalla dottoressa Bonacini che possono sicuramente bypassare quelli che sono i problemi della scarsa sensibilità dei responsabili del museo e del difficile coinvolgimento del territorio se non si hanno strategie, se non si studiano delle case history che sono e la loro applicabilità al territorio di riferimento noi avremo sempre questi dati quindi non bisogna scoraggiarci e questa è la cosa che io dico e insistere ma nella maniera giusta cioè lavorando su quella che è la bibliografia dei casi di musei, per esempio per quanto riguarda la prima domanda di musei simili come entità come proprietà tipo un museo comunale va fatto l'esempio di quello che ha fatto un museo comunale con scarsi finanziamenti e proporla a un museo locale quindi riuscire a scardinare la scarsa sensibilità dei responsabili proprio con esempi di pari livello il coinvolgimento del territorio però mi rendo conto che siete un po' sfiduciati ma se cominciate a partire dalle categorie produttive parlo anche solo di quelli che sono l'agriturismo quelli che si occupano di agricoltura biologica invece sono le persone veramente più responsabili e più motivate del territorio quindi basta partire dagli stakeholder giusti per coinvolgere il territorio una volta che sono stati superati i primi due gradini il numero tre, problemi logistici e operativi o le competenze insufficienti si superano di conseguenza Bene, grazie Lucia concordo molto con questa tua lettura e la parola a Simona D'Arcangeli che può intervenire prego, l'audio è aperto può intervenire con una domanda con un breve intervento Simona ci sente? non la vedo collegata con l'audio aveva alzato la manina non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire prego di segnalare cliccando sulla manina nel frattempo ricordo che appunto come Artest il tentativo che stiamo facendo è quello di creare degli operatori di turismo esperienziale che quindi possano far vivere e trasformare quello che è Lucia mi sente? si 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 sente ecco a lei Simona prego perdonatemi ma sono collegata con lo smartphone quindi probabilmente ho avuto delle difficoltà prego, è venuta a lei la parola grazie mille grazie mille allora io sarò a breve ma io avrei messo tra le difficoltà ad avviare questo tipo di pratiche anche un altro punto secondo me abbastanza essenziale cioè di autorizzazioni io sono una psicologa e mi occupo proprio di apprendimento attivo il sopracitato Colbe per esempio immagino che si facesse proprio riferimento a questo concetto e mi occupo anche di comunità quindi insomma come dire i numeri a favore della mia professionalità ce ne sono diversi per lavorare all'interno del museo ma ho avuto già diverse risposte che suonavano più o meno così e cioè non sei autorizzata cioè non sei una guida turistica per esempio nel caso specifico quindi Andrei io forse magari sono le condizioni che ho trovato io ma secondo me è un problema anche di autorizzazioni che riporta il problema anche al concetto che ormai nei musei entrano diverse professionalità forse bisognerebbe incominciare a riconoscere anche questo grazie grazie a te Simona chiami da Roma bene ok allora se Lucia vuole intervenire su questo che è un tema molto interessante la questione delle professionalità io non l'ho voluta toccare perché il campo poi è troppo ampio sono perfettamente d'accordo ma c'è tutto un'altra è tutta un'altra storia cioè se ne può parlare nel corso di un altro webinar per quanto riguarda la questione delle autorizzazioni l'esperimento Sicilia che io continuo a citare nuovamente è stato invece quello di lavorare sulla produzione di contenuti su una piattaforma sulla quale anche voi potete fare le cose che si chiama Easy Travel e sulla quale potete vedere tutte le esperienze che ha fatto Elisa Bonacini con la produzione di contenuti che il museo poi ha soltanto certificato quindi un qualcosa fatto a posteriori tipo audioguide per bambini fatte dai bambini su testi ufficiali di archeologia o guide ufficiali del museo poi sottoposti semplicemente alla certificazione del museo quindi a un'autoproduzione di contenuti dal basso nel momento in cui il museo ha visto qual era la forza nella produzione di queste cose quanto queste cose riuscivano ad essere coinvolgenti ha cominciato a smuoversi e quindi si è creato quello che è il circolo virtuoso quindi le consiglio di guardare attentamente sul sito Easy Travel tutti i prodotti turistici diciamo di guide turistiche, di audioguide o di altri contenuti che sono stati fatti certo che comunque Roma per esempio è comunque una piazza molto particolare perché a Roma ci sono anche molte società di gestione sui musei grandi e dove ci sono le società di gestione purtroppo tutto quello che abbiamo detto non può intervenire quindi a Roma io consiglio di lavorare con i musei piccoli del territorio perché una volta che tramite questo primo a produzione piccola produzione si riesce a intercettare uno dei bisogni del museo allora la comunicazione può mettersi in moto se no mi rendo conto la prima cosa è il no non si è autorizzato e quant'altro grazie Lucia do la parola adesso agli ultimi due interventi che possiamo fare vale a dire Giuseppe Nimis ed Elisabetta Salvato è chiaro che per essere nei musei e organizzare delle visite e non visite diciamo così noi dobbiamo comunque avere per la parte appunto di visita guidata la partecipazione la collaborazione di guide turistiche certificate e autorizzate e come appunto si diceva ricordava anche la Simona è chiaro che tutto quello di cui abbiamo parlato riguarda l'interazione di diverse professionalità che finalmente possono essere dei partner utili al museo per diventare un luogo di educazione e di promozione culturale in questo senso vorrei così accennarvi che per settembre-ottobre noi avremo un webinar proprio dedicato dedicato alle professioni turistiche e a quelle legate ai servizi per l'incoming la parola allora a Giuseppe Nimis se è collegato ha la possibilità di intervenire Giuseppe ci senti? Sì, attivato il video buonasera a voi allora io sicuramente apprezzo molto l'intervento e anche i contenuti e questo tipo di volontà ma devo dire che la verità sono più che altro i problemi burocratici specialmente con i musei nazionali che dipendono dal ministero che hanno delle direttive molto severe per quanto riguarda l'accesso dei privati all'interno della struttura specialmente per quanto riguarda attività economiche e commerciali io penso che vista la vostra situazione specialmente il vostro interesse su questo tema e sarebbe interessante invece fare un censimento i quali sarebbero i musei che sarebbero disponibili ad accettare e a valutare delle proposte relative appunto a esperienze da svolgere all'interno della propria struttura quindi sarebbero già un terreno fertile pronto a ricevere invece che viceversa andare a sensibilizzare qualcuno che non ha orecchie per ascoltare quindi questo è perché adesso faccio una domanda facile c'è qualcuno nel collegamento che gestisce qualche museo? si faccia avanti e dia la sua disponibilità agli operatori grazie Giuseppe io giro la risposta e eventuali vostre risposte al piacere di tenerci in contatto con le email con il sito che voi conoscete e quindi sia su questa risposta sia sul fatto di condividere esperienze buone pratiche e disponibilità di musei che ci stanno a aprire le porte al tipo di lavoro che Lucia ci ha raccontato il piacere di rimanere in contatto questo lo possiamo fare tranquillamente quindi grazie Giuseppe di questo intervento salvo appunto Lucia una risposta di Lucia che vorrei avvenisse insieme a quella da dare a Elisa Salvato chiedo ci sente Elisa? si mi sentite? prego allora la domanda sono un po' afona quindi spero che mi sentiate lo stesso si sente molto bene grazie allora grazie a tutti grazie per questo intervento io avevo fatto quella proposta di aggiungere la voce budget in quel sondaggio perché per la mia personale esperienza la voce è fondamentale se non c'è quello possono esserci anche le disponibilità di tutti ma non si fa nulla e non è facilissimo creare degli eventi che siano in guadagno quindi la difficoltà che io incontro quotidianamente è riuscire a ideare eventi che siano di un alto livello culturale ma anche abbastanza attrattivi da poter coprire le spese che ho sostenuto questo ovviamente accade ai musei come il mio che non ricevono finanziamenti pubblici magari ci sono musei che ricevono molti finanziamenti per fare queste cose però se non c'è questa possibilità ovviamente bisogna sempre fare questo tipo di calcolo e quindi l'evento che abbini a livello culturale alla possibilità di una copertura proprio semplicemente delle spese non è banale dunque spero che mi si senta perché professor Ruggiero adesso non riuscivo a sentirlo il problema il problema è questo i musei i musei statali sono gli ultimi che dobbiamo tenere in considerazione noi dobbiamo prima lavorare sui musei del territorio e creare un interesse nel territorio e così rispondo anche alla seconda domanda non deve essere una questione di cercare finanziamenti dall'alto cioè che il museo abbia dei finanziamenti per fare delle attività ma di riuscire a coinvolgere le forze del territorio affinché siano interessate a sponsorizzare pansialmente uso il termine sponsorizzare ma non è quello giusto essere coinvolte in un in un progetto perché ci sono tante associazioni produttive sul territorio che magari adesso faccio solo un esempio sarebbero contente di finanziare una passeggiata culturale fuori e dentro al museo se questa riguarda le raffigurazioni dell'olivo sui vasi greci e si conclude con una degustazione di olio presso la loro azienda ecco scusatemi se ho detto per sommi capi ma si tratta di sollevare una maniera di riuscire a far sollevare il territorio creando un bisogno reciproco nel museo e nel territorio una volta che si è innescato questo meccanismo del creare i bisogni poi le iniziative diventano quasi autofinanziabili è chiaro che è una fatica iniziale che significa cambiare proprio sguardo cominciare a vedere questo per esempio nella regione Mar che è stato fatto con il distretto culturale evoluto una legge che praticamente diceva diamo i finanziamenti solo del 30% a un progetto che risulti autofinanziabile per tre anni e quindi i musei sono andati proprio a contattare il tessuto produttivo del territorio e a creare in loro un interesse affinché loro dessero il 70% del finanziamento quindi si tratta proprio di un adattamento come si dice di un'evoluzione della specie all'ambiente trovare il modo di far leva sui bisogni del territorio produttivo per poi arrivare al museo non esiste più il museo che riceve un finanziamento se riceve un finanziamento il museo sicuramente non chiama a noi chiama due o tre nomi noti in Italia anzi due anzi uno e basta perché pensa perché in Italia si è innescato questo brutto sistema che basta il nome di grido per garantire qualcosa mentre non è così e io oggi ho cominciato perché non si poteva dire tutto in un webinar ma l'importante è lavorare appunto sul territorio ecco perché vi ho parlato delle comunità di eredità perché il mio sguardo è rivolto al territorio che può cominciare a proporre qualcosa al museo dicendo che ci mette che ci mette qualche soldo quindi noi dobbiamo diventare dei mediatori fra territorio e museo quasi quasi non fra museo e territorio mi spiego una volta che si è cambiata molto questa questa cosa e soprattutto una volta che il museo ha visto che riusciamo per esempio come i contenuti su Easy Travel riusciamo a creare dei contenuti con con le scuole o con altri gruppi di interesse a costo zero il museo ci guarda in un altro modo quindi territorio da un lato territorio produttivo e museo che comincia a vedere che può fidarsi di noi che può collaborare con noi poi è chiaro che questa è una fase chiamiamola di investimento non non possiamo più pensare che ci sia un investimento dall'alto infatti non non ne ho parlato proprio e ho cominciato parlando di altre cose grazie grazie a te Lucia io ricordo che penso anche che tu sia d'accordo che chi volesse continuare un contatto possiamo dare un riferimento un email che che vorrai comunicarci che sarà a mia cura distribuire con un email a cui magari allegare qualche materiale utile per approfondire i temi di cui abbiamo parlato oggi in particolare ringrazio Lucia per questo spirito positivo e anche molto operativo che è in linea con quello che stiamo cercando di costruire insieme come rete artesse in Italia vale a dire quello di poter creare dei prodotti di story living per turisti per visitatori anche di musei e tutto questo come si diceva prima ha bisogno di grande professionalità che assicuri dei prodotti ad alto contenuto culturale che siano attrattivi dal punto di vista del mercato in questo senso secondo me c'è una buona domanda che viene da turisti soprattutto internazionali che amano tra virgolette l'arte made in Italy in genere sottolineo in questo senso le commissioni ne ha fatti diversi di esempi Lucia tra il patrimonio in senso stretto museale e il patrimonio territoriale quindi tutto quello che è agroalimentare che è fashion che è made in Italy che ha un'attrattiva particolare su un pubblico di turisti stranieri e poi la questione dei costi se c'è un qualcosa che è apprezzato dal mercato il mercato la paga e la paga anche bene sono molteplici esempi da questo punto di vista quindi rimaniamo con il piacere di tenerci in collegamento e per qualunque idea e iniziativa io ricordo che chi è interessato ad approfondire i temi legati alla professionalità che occorre per creare esperienze che in questo caso vedano i musei come luoghi privilegiati di erogazione ci può contattare possiamo continuare a ragionare insieme grazie ancora da ultimo ricordo che Lucia ha pubblicato diversi libri sui temi quindi la bibliografia ve l'avevamo più o meno data in modalità molto sintetica ma e quindi dei contributi molto interessanti in particolare vi segnalo il libro dal Museum Theater al Digital Storytelling di recente pubblicazione per Angeli che dà degli spunti interessantissimi su come in modo creativo dare delle soluzioni e creare dei prodotti di successo per un mercato che chiede sempre di più qualità e ha sempre più voglia di misturarsi con proposte culturali grazie ancora grazie ancora Lucia e buonasera a tutti buonasera arrivederci